Pronti, pronti, siamo pronti per la rassegna stampa questa mattina, oggi giovedì 5 maggio 2022, cari telespettatori, non so perché ma il 5 maggio è una data sempre che rimane impressa, non ha un motivo particolare se non, diciamo così, una poesia che un tempo veniva imparata a memoria dai ragazzi delle scuole medie, ora credo che non lo si faccia più, comunque il 5 maggio è una data piuttosto, voglio dire, importante. Ebbene, cominciamo la nostra giornata con il conoscere il Santo del Giorno. Oggi il Santo del Giorno è Sant'Angelo di Gerusalemme. Sant'Angelo si fece monaco insieme al fratello gemello sul Monte Carmelo in Palestina, l'ordine fondato dal profeta Elia. Siamo nel XIII secolo. Angelo, un ebreo nato pronto nell'ambito della religione ebraica, si convertì al cristianesimo e fu inviato dai suoi superiori a Roma addirittura per far riconoscere dal Papa la regola carmelitana. Il Papa da poco aveva riconosciuto la regola di San Francesco, cosa che il monaco ottenne. Fu poi inviato in Sicilia per contrastare le eresia dei patarini, ma questo viaggio gli fu fatale. Infatti fu qui ucciso dai sicari mentre usciva dal Dirmessa nella chiesa di San Giacomo a Licata. Insomma, un santo ebreo che costituì un punto di riferimento importante per quanto riguarda il cristianesimo. E vediamo anche le previsioni del tempo. Vediamo che il tempo sta un po' cambiando, sta un po' cambiando. Lo vediamo un po' dalla grafica. Al mattino comunque la situazione rimane stabile, ma nel corso della giornata ci saranno delle evoluzioni. Tempo asciutto fino alla mattinata, poi peggioramento da ovest con piogge e rovesci su tutti i settori entro la sera. Le massime si manterranno fino a 21 gradi, le minime scenderanno fino ai 12, i venti spireranno da una direzione di sud-est nelle coste, mentre nell'entroterra abbiamo una direzione da est-sud-est e le temperature sono in calo, ancora in calo. Vediamo i giornali, vediamo i giornali a partire dal Corriere, no, dal resto del Carlino questa mattina. E vediamo come la situazione dell'Arzilla, della pista ciclabile dell'Arzilla, si comincia a configurare secondo il progetto dell'amministrazione comunale, un progetto che è stato duramente contestato dagli ambientalisti. E qui vediamo una fotografia significativa, come si sta riducendo il greto del torrente. Pista all'Arzilla, scavi disinvolti, è stato usato questo aggettivo messo tra virgolette, e sono venuti giù anche i miei trenoci, denuncia una residente. Erano trenoci dove saltellavano gli scoiattoli che producevano frutti, ma sono stati drasticamente eliminati. E le foto raccontano lo stato di avanzamento in maniera molto significativa dei lavori, così come commenta l'architetto Giorgio Roberti, che è stato uno dei più determinati contestatori del progetto attuato dall'amministrazione comunale, non contro la pista ciclabile, ma contro il modo con cui la pista ciclabile è stata progettata. Le foto dimostrano innanzitutto quanto lamentato dalle associazioni ambientaliste. Dice Roberti, non ci sarà più un percorso che racconta il territorio. Inoltre, mi sembra un modo pericoloso di procedere con quel tipo di scavo. Speriamo che non scivoli a valli il terreno dei giardini privati che stanno appunto sul rialzato. Insomma, è una battaglia che gli ambientalisti probabilmente hanno perso, anche che saranno combattute fino all'ultimo. E poi vediamo che a fondo pagina c'è una denuncia del sindaco Massimo Seri. Per quanto riguarda i lavori pubblici, sono lavori che procedono a fatica per diverse ragioni oggettive, contingenti. A Fano, commenta il primo cittadino, come in tutti gli altri comuni d'Italia del resto, gli effetti dei sostegni edilizi relativi al 110 hanno procurato sì benefici ai proprietari delle abitazioni che sono riusciti a restaurare i propri palazzi, ma anche danni per quanto riguarda l'aumento dei prezzi e il costo delle materie prime, anzi anche la difficoltà di ritrovare le materie prime. Ebbene, si è introdotta, si è costituita una dinamica di forti tensioni internazionali che stanno creando molte criticità. E poi subentrata la guerra, c'è stato il problema della pandemia. Insomma, diverse concause che hanno determinato un problema per quanto riguarda il procedere a lumaca dei cantieri e molti si sono anche arrestati. Caricato da un capriolo o rischiato grosso, è un ciclo amatore, la disavventura di Giuseppe Leone, 71 anni, 71 anni, un fanese che mentre è un fanese che ama la bicicletta, addirittura fa moltissimi chilometri, addirittura 500 chilometri, insomma una esagerazione, in bicicletta in un giorno e mezzo, insomma veramente, è andato in Toscana e qui è arrivato un capriolo che dal lato l'ha buttato per terra e veramente ne ha patite di tutti i colori. Ha avuto una clavicola con due fratture, la mano fratturata, il setto nasale fratturato, sopracciglio sanguinante, una profonda ferita, maccature varie in tutto il corpo, insomma è stato ricoverato all'ospedale di Pisa dove è stato curato e poi è stato dimesso. Comunque una brutta avventura descritta in questo articolo vissuta da Giuseppe Leone mentre pedalava in Toscana, da allora un vero e proprio calvario. E poi vediamo ancora come il nostro territorio è un territorio privilegiato dove si girano parecchi film e uno dei film che è stato girato un po' in tutte le marche ma anche a Fano ha ottenuto un premio significativo a Cannes. Nelle sale il film girato a Fano in platea gli stessi attori. Si tratta di Criminali si diventa. Il film Made in Marche con Fano protagonista diretto da Luca Trovellesi Cesana e Alessandro Tarabelli addirittura con l'aiuto regia del fanese Henry Secchiaroli. Ebbene giovedì sera in Ancona dobbiamo dire che si svolge appunto nella città dorica. La prima verrà proiettata al Giometti la pellicola e poi abbiamo la sera successiva la presentazione del film con alcuni dei protagonisti al cinema multiplex Giometti di Bellocchi in Contemporanea con Porto Sant'Elpidio e Iesi e nel cast ci saranno tanti tanti fanesi ma anche attori fanesi come Ugo Dighiero nel ruolo di frate Lodo Guenzi cantante dello stato sociale interprete di tuttofare. Ebbene ci sono molti nomi noti molti ragazzi che amano il teatro, amano il cinema e quindi sono prestati a recitare in questo film. Sarà una bella esperienza andarlo a vedere. Installati due defibrillatori la scuola ne compra altri cinque. È accaduto a Pergola. Dispositivi posizionati al campus e sotto il comune e il Binotti ovvero l'istituto comprensivo Gagliano Binotti rilancia e ne prende anche altri. Proloco, Avis, amministrazione comunale, Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo hanno dato concretezza ad un progetto, un progetto molto utile, intitolato Tutti possiamo salvare una vita, dotando la città dei bronzi di due defibrillatori posizionati uno nel campus scolastico e l'altro sotto i portici comunali. Quindi sono in centro storico e sono vicino alla scuola mentre poi il Binotti rilancia con ulteriori strumenti nella palestra della scuola media in orario extrascolastico ovunque sarà aperto e sarà disponibile per tutti. Ceriamo la pagina e vediamo la pagina di Urbino. A Urbino le buone azioni diventano moneta. L'università in questo caso lancia in modo esteso una app che trasforma l'agire virtuoso, ovvero le buone azioni, le azioni solidali compiute dai cittadini in crediti chiamati WOM. Come spenderli? Si spenderanno nei negozi con sconti e facilitazioni. Ebbene, vediamo meglio. L'Università di Urbino e la sua spin-off Digit SRL mettono la tecnologia digitale a servizio della coesione sociale. E vediamo come. Introducendo dei voucher elettronici anonimi chiamati WOM, Wart One Minute, così dice il titolo, vuol dire vale un minuto, studenti, cittadini e turisti potranno guadagnare compiendo azioni socialmente utili e poi spendere in quegli esercizi che ne riconosceranno il valore, sono già oltre 50 ad Urbino, in cambio di sconti o agevolazioni che i titolari decideranno di offrire loro. Io faccio una buona azione, solitamente si fanno in maniera molto molto gratuita, ma in questo caso è proprio i negozianti di Urbino che premiano chi si comporta in modo esemplare. A Urbino le buone azioni diventano moneta. Alle Nuova Luce, sempre ad Urbino, un red carpet, tutto urbinate e non solo a Fano ma anche ad Urbino si girano film. L'appuntamento alle ore 21 al cinema Nuova Luce, alla presenza del film di Andrea L'Aquidara, ritratto di donna in un paesaggio. Le riprese sono state fatte in città e in campagna. L'appuntamento è alle 21 al cinema Nuova Luce, alla presenza del cast, autori e produttori. Anche in questo caso, insomma, sarà interessante rivedere personaggi e luoghi noti del nostro entroterra. E poi vediamo che a Urbino nasce un nuovo festival, si chiama Aleteia. Nella città ducale nasce un festival e sarà un festival ideale, come è stato illustrato nella conferenza stampa di presentazione. Si chiama Aleteia, da domani all'8 maggio, e trae le sue origini dell'antica lingua greca. Sono una serie di appuntamenti di carattere culturale che vengono evidenziati da questo articolo pubblicato di spalla oggi dal resto del Carlino. E poi vediamo invece come il giornale evidenzia un problema. Un problema, la strada del furlo, ancora chiusa dopo tanto tempo. Si sono persi due mesi, i lavori hanno subito uno stop. A questo proposito il consigliere regionale Andrea Biancani interviene sollecitando appunto l'apertura di questa arteria. Pensate al primo maggio, quando molta gente si è trovata la strada sbarrata e ha dovuto magari per fare un picnic sulle rive del torrente, del fiumiciattolo, o fare tutto il giro fino al Pelingo, venendo da Fano, passando per la galleria. Il consigliere regionale Andrea Biancani dice la strada chiusa si riaprirà tra la fine di giugno e luglio. La colpa è dell'Enel e della Regione. Ovviamente ci sono anche dei connotati politici in merito alla questione. Sulla pagina regionale, anzi sulla pagina pesarese del resto del Carlino, vediamo il presidente della giunta regionale, Acquaroli, che è intervenuto in Consiglio Comunale a Pesolo a parlare dell'ospedale di Muraglia. Acquaroli si è impegnato a non fare un ospedaletto, lo ha dichiarato testualmente e qui vediamo le sue dichiarazioni riportate nel titolo. Non faremo un ospedaletto. Il governatore delle Marche, in Consiglio Comunale, per le liste d'attesa e la fuga di camici bianchi ci stiamo muovendo. E nel questo caso, di fronte all'assise civica, Acquaroli ha ribadito che tra Fano e Pesaro non creeremo contraddizioni inutili. Si devono completare dando risposte ed esigenze prioritarie come emergenza e urgenza, ha detto, riferendosi ai due nosocomi. Riguardo alla mobilità passiva, che è uno dei problemi che è emerso anche proprio in questi giorni, sta emergendo in questi giorni, perché veramente molti cittadini si trovano di fronte a delle situazioni abnormi. Ebbene, riguardo alla mobilità passiva, tirata in ballo da tutti i consiglieri e poi anche dal sindaco in questa occasione della visita di Acquaroli, peccato originale su cui il teorema dell'ospedale unico è cresciuto, Acquaroli ha spiegato la strategia regionale. Abbiamo commissionato un'indagine alla Università Politecnica delle Marche, ha detto, per capire le ragioni dai risultati è emerso che ad alimentare la mobilità non è la richiesta di eccellenze, quanto la carenza di servizi di qualità media, ma diffusa sul territorio. E forse verrebbe da pensare se c'era bisogno di commissionare un'indagine per capire questo. Forse molte persone l'avevano già capito. Il problema è capire come porvi rimedio, perché fino adesso le soluzioni non sono state esaustive. Per voi c'è solo Ancona, ha ribadito il sindaco Ricci. Qui manca l'eccellenza. Il sindaco non ha risparmiato critiche al presidente, così come ai dirigenti di Marche Nord. La mobilità passiva è in aumento, ha dichiarato, insomma, con dati oggettivi. Cambiamo argomento e vediamo di un funerale che si è svolto a Marotta. Un migliaio in lacrime per Andrea. Andrea Sciarrini. Giochiamo di squadra per i tuoi cari, ha detto Don Steven, che ha parlato alla folla di Marotta, che ha partecipato ai funerali. Una vera e propria folla ha corsa al cestista, ha corsa per portare l'ultimo saluto al cestista. Si tratta di Andrea Sciarrini, che è deceduto a causa di un malore dopo l'ultima partita. Sei in buone mani, ha detto Don Steven, riferendosi alle mani di Gesù, perché lui è il più grande allenatore, ha dichiarato il sacerdote. Comunque grande la commozione, grande il cordoglio che ha suscitato questa scomparsa così improvvisa, perché poi scompare anche un padre di famiglia con moglie e figli. Mettetevi d'accordo o addio ai soldi. È un out-out dell'assessore Riccardo Pozzi, che dice agli albergatori e ai concessionari di spiaggia di mettersi d'accordo sui ripascimenti, altrimenti i soldi che ha messo a disposizione il Comune verranno destinati ad un altro settore, ad un'altra opera. L'assessore Pozzi mette in guardia i concessionari di spiaggia e gli albergatori. Trovate un'intesa, ha dichiarato. In caso contrario i 50 mila euro per i lavori proposti dal Comune, li auseremo per altro. E poi c'è un'apertura per quanto riguarda la deviazione della ferrovia dalla costa verso l'entroterra, effettuata dal Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, che nel corso del question time, ovvero di un intervento effettuato appunto al Parlamento in seguito ad una interrogazione di alcuni deputati di Fratelli d'Italia, ha detto che il progetto di deviazione della ferrovia nelle Marche sarà migliorato. Giovannini ha fatto il punto durante appunto questa risposta. Sono stati evidenziati problemi nel progetto ha ammesso più che ha dichiarato. Organizzeremo nei prossimi giorni un incontro con i tecnici per esaminare le proposte presentate. Quindi c'è la possibilità che il progetto venga migliorato. Nelle Marche sono 900 mila coloro che potranno avere il bonus di 200 euro varato dal governo Draghi. Secondo le prime stime del Centro Studi Ires CGL, la platea dei beneficiari marchigiani è appunto di 900 mila, quasi un milione di persone. Di questi la metà, 520 mila, sono lavoratori dipendenti. Insomma un piccolo aiuto, non certo esaustivo, ma che può dare un sostegno a coloro che si trovano in difficoltà. E poi voglio segnalarvi una nuova truffa, un nuovo raggiro. Un nuovo raggiro. Ce ne sono tanti che vengono commessi nei confronti degli anziani, i quali aprono le porte delle loro abitazioni e fanno entrare persone che si spacciano per incaricati di Enel, oppure del gas, oppure vigili urbani. In realtà sono dei truffatori. Ebbene in questo caso si tratta di una truffa che ha per oggetto i rilevatori del gas. Dopo Perugia e Bologna, passando poi per altre città d'Italia, sono comparsi anche a Pesaro sui portoni di casa dei fogli che comunicano il passaggio di esperti in sistema di sicurezza, di pseudoesperti in sistema di sicurezza, antimonossido e antiincendio. Ebbene, si tratta di un raggiro. Quei sistemi che vengono venduti a circa 300 euro valgono molto, ma molto meno, non più di qualche decina di euro. Quindi fate attenzione. Qui viene fotografato uno dei fogli che è apparso su un pertone della città, in modo particolare sui condomini non cascateci, è appunto l'avvertimento del giornale. E poi vediamo che invece a Vallefoglia c'è stata una simpatica iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale che ha porto il saluto ai 118 neonati che sono venuti alla luce appunto nel territorio del comune. L'iniziativa è dell'amministrazione per le famiglie, a cui è stata concessa una famiglia, a ricordo dell'evento. Per quanto riguarda i bambini venuti al mondo nel 2021, sono 118 i neonati. Chiama il 118, ma quando i soccorritori arrivano è già morto. Purtroppo una tragedia che si è consumata a Monte Labate e un più che ottantenne ha avvertito i primi sintomi del malore. Ha avuto la forza di chiamare i soccorsi, purtroppo però quando questi sono arrivati il paziente era già deceduto. Purtroppo non è stato possibile rianimarlo. Vediamo ora il Corriere Adriatico. Apriamo il giornale sulla pagina di Fano. Vediamo che l'apertura è dedicata alle scogliere di Ponte Sasso. Vediamo qui il titolo. Scogliere soffolte da rinforzare, ma le brecce sono dimenticate. Abbiamo una notizia positiva e una invece non certo positiva, diciamo così negativa, così come la definiscono i componenti del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. Comunque la buona notizia è quella che verrà attuato il secondo stralcio della posa in opera delle scogliere a Ponte Sasso. Il primo stralcio era stato progettato e realizzato nel 2020. Ora vengono rinforzate le scogliere a fronte a Ponte Sasso per eliminare e cercare almeno di ridurre l'erosione e fare guadagnare la spiaggia di qualche metro. E poi invece l'intervento dei 150 mila euro è un investimento tutto a carico della Regione Marche. Invece per quanto riguarda le brecce ci sono diversi problemi. Per esempio il sottopasso di via del Bersaglio che doveva essere fatto dai tempi dell'eliminazione del passaggio livello non è stato fatto e nel suo luogo è stato realizzato un cavalca ferrovia che insomma non è facile da superare poi ha un impatto estetico molto molto rilevante. E poi c'è la strada delle barche che è rimasta al palo. Abbiamo poi tutta la riqualificazione della pista dei go-kart dell'area del poligono o dell'ex poligono dei militari. Insomma ci sono diversi problemi nell'area delle brecce che vengono poste all'attenzione dell'amministrazione comunale tramite una interrogazione che è stata presentata dal Movimento 5 Stelle. Domenica prossima sarà la festa della Madonna della Colonna a Fano. Una festa molto sentita dalla popolazione. In realtà le iniziative cominciano da questa sera quando alle ore 20.45 verrà realizzata una fiaccolata notturna con partenza dalla Chiesa di Santa Maria Goretti la parrocchia appunto di Sant'Orso una iniziativa cura dell'azione cattolica. Poi ci saranno diverse preghiere, riti religiosi che si protrarranno fino a domenica fino a quando alle ore 17.30 ci sarà una solenne celebrazione presieduta da Monsignor Ugo Ugi. E poi qui seguirà la processione con l'immagine della Madonna della Colonna un'immagine che risale al XV secolo dipinta da un pittore anonimo che un tempo era nella Chiesa della Colonna che si trovava al centro dell'aeroporto che poi è stata abbattuta durante gli anni 40. Ebbene durante questa processione alla fine di questa processione verrà inaugurato anche un cipo dietro il santuario in memoria di Fabio Uguccioni colui che ha voluto quel bosco quel piccolo bosco che è stato piantato alle spalle del santuario stesso ma che poi Fabio Uguccioni ha fatto tante altre cose ha ideato e realizzato per esempio la Fondazione Fano Solidale poi l'Arena BCC insomma tante cose per coloro che hanno bisogno di aiuto. Parliamo anche di Carnevale parliamo di Carnevale perché il 4 e 5 giugno verranno realizzate alcune manifestazioni carnevalesche soprattutto dedicate alle famiglie e ai bambini e c'è un'idea del noto fotografo fanese Paolo Delbianco che ha spinto appunto i cittadini i bambini a meno di 15 anni a realizzare dei piccoli carri piccolissimi carri ne vedete qui uno realizzato dallo stesso fotografo immaginate voi una piccola sfilata di questi carretti piccolini che sfilano per Viale Gramsci ma sono opere realizzate dai bambini una bella idea quella appunto progettata da Paolo Delbianco e poi vediamo che sempre sulla pagina di Fano si parla dei valori della Costituazione valori che vengono messi all'attenzione dei ragazzi delle scuole i quali hanno proiettato dei filmati questi verranno poi resi visibili resi pubblici domani al Politeama grazie appunto al concorso appunto dell'AMPI dell'AMPI e della PCGL e della provincia infatti ci saranno i saluti dei rappresentanti di queste istituzioni i principi fondanti della Repubblica Italiana descritti dagli studenti della provincia che hanno realizzato un cortometraggio appunto verranno evidenziati durante questa iniziativa a Fossombrone torna la fiera di San Matteo ma rimarrà l'unica dell'anno la Giunta ha deciso confermata la tradizione del terzo weekend di settembre sarà l'unica per tutto l'anno in corso delle tre feste delle tre fiere che si realizzavano appunto a Fossombrone quella del patrono Santa Aldebrando che è stata eliminata e poi anche quell'altra la fiera all'isla che si svolgeva nella seconda domenica del mese di aprile sempre di un giorno sospesa anche questa e scivolata via senza però tanti clamori mentre per quanto riguarda Sant'Ildebrando insomma la soppressione della fiera ha destato delle polemiche invece quella di San Matteo verrà organizzata tranquillamente e poi si parla della Biblioteca della Legalità alla Mercantini l'annuncio nel corso di una conferenza con il magistrato Cigliola e qui vediamo una fotografia del giudice Valeria Cigliola diamo un'occhiata anche ad una pagina ad una pagina regionale perché si parla di bandiere blu martedì prossimo ci sarà la cerimonia ufficiale a Roma per quanto riguarda la consegna di questo vessillo che contraddistingue le zone più compatibili dal punto di vista ambientale d'Italia ebbene per quanto riguarda la provincia di Pesaro ci sono ancora Gabicce Pesaro, Fano e Mondolfo era l'ultima notizia a questo punto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento domani alle ore 7 mentre per le notizie del giorno vi invita a seguire il TG Occhio alla notizia condotto da Simona Zonghetti alle ore 20 e 30 di questa sera questo è tutto buona giornata a risentirci a